... Allora, sono Riccardo Pila, Delegato Nazionale della Democrazia Cristiana Storica. Noi qui siamo a Piazza Montecitorio perché siamo per una raccolta firme, una raccolta firme importante, ossia quella per la modifica del Trattato di Dublino, Dublino 3, che riguarda il fatto dell'immigrazione, un fatto di attualità, di interesse pubblico. Noi pensiamo che questo non è un problema solamente italiano, ma riteniamo che sia un problema europeo, ma che l'Europa debba prendersi a carico questo importante dramma, perché è un dramma che porta con sé migliaia di vittime. Il problema, oltre a questo, è il problema dell'accoglienza. L'accoglienza, l'Italia non si può fare a carico di tutte queste persone. Cioè, di dare una mano in quei posti, di dare una mano a gestire questa situazione, che purtroppo è una situazione drammatica, perché sappiamo perfettamente quali sono le situazioni nel Medio Oriente, ma è lì che dobbiamo intervenire. Non possiamo fare nulla di altro, perché se l'Europa non interviene, se l'Italia non può fare nulla, solo l'unica cosa che possiamo è fare dei cordoni umanitari nei quei luoghi per dare speranza alla popolazione. Bisognerebbe veramente fare interviene le Nazioni Unite. L'oggetto di questa richiesta è, come dice il manifesto, Stop Dublino 3. Dublino 3 purtroppo è uno scelerato firmato da alcuni politici anni fa, dove, come sapete tutti, la prima accoglienza dove vengono sbarcati questi grandi estini deve essere poi ripartita per tutta l'Europa e questo non avviene. Non avviene perché il Dublino 3 ci obbliga a tenerli qua da noi. La soluzione migliore per noi sarebbe quella che tutta l'Europa intervenisse, che ci fosse la ripartizione di questi grandi estini che scappano da una guerra, da un'infame legislazione che hanno il loro paese, da quello che è successo in Libia, ma non solo in Libia, ma in Nord Africa. Per cui noi chiediamo che Dublino sia abolita come legge, che poi non è una legge ma è un emendamento fatto dai nostri politici, e che tutta Europa intervenga con l'accoglienza di questi grandi estini. Grazie.